Ciao a tutti e benvenuti a una nuova Zembri d'intervista per il bellissimo, vero, bellissimo, già qua, il mio po' Zebrone. Un po' di ore e smile. Anzi, baciatemi tutti, tutte, non tutti, non tutti per favore. Allora, cento rana donne, da poco concludici. Che sensazione hai avuto, che emozione hai provato? Ho visto davanti una gara che veniva dopo gli 800 e un meeting, un meeting importante quale è il Trofeo Città di Milano. È stato molto amicizionante perché non sono mai venuta in contatto con atleti di questo genere e invece in Trana sono stati molto... E quell'idiota di Morlachi, testa di rata! Sono stati molto amicizionati, perché veniamo da una settimana di duro lavoro, visto che siamo appena a città dai italiani e questa settimana abbiamo lavorato molto. Dalla lunga alla lunga, perché ricordiamo come era in basca da 50, anche perché lì non mi sembra abbia un contone, quindi è stato un po' un riprendere al volo quello che poi sarà il proseguo della stagione in basca lunga. Ora credo di essere il proprio scattolo di questa gara. È stato come un allenamento per me e... Speriamo! Che io se mi schizza ancora acqua a Morlachi lo ammazzo? È poco ma sicuro! Morlachi basta! Morlachi hai rotto le palle, domani sei pure in intervista, ti faccio nero! So io anche dove iniziare a parlare nero! Sì, purtroppo, tra l'altro. Noi... Ciao, Mircio! Ho un Yakult, lo voglio, ho pubblicità Yakulta. Ho pubblicità Yakulta, forse. Oh, che bella... Tanto qua stiamo già delirando... È troppo caldo! Ed è solo mezza giornata, lei se ne va, io a me tocca domani. Sicuro! Dai, prossimi appuntamenti? Assolutamente, noi sarà il 26 marzo a Bergamo, un meeting sempre regionale, però un valido per i nostri utenti. Speriamo vada bene, ho un 400 stile, però... Ciao, ciao, io non so contare. Io non so contare. Ho un bacio di stile, speriamo. Io ammazzerei quello lì, come avete capito, lo amo. Con questa vi salutiamo e alla prossima! Ciao, 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 ciao!